musica 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 giovanni giovanni parola un sorriso un sorriso musica 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 un borne Non sono ammissibili debolezze rispetto alle forze che le assumono che vanno dritto all'attentato, un attentato sociale a fondamentali camisalti di carattere sociale del nostro paese. Quindi c'è una necessità, la necessità di rispondere a tutte le sacche di privilegio delle tante categorie che con 16 anni di contributi, con 21 anni di contributi, con tutte le condizioni profondamente differenti dai tanti pensionati della previdenza sociale del nostro paese continuano, ai lavoratori precari che tanta fatica fanno per mettere assieme i contributi previdenziali nelle nostre realtà pur lavorando spesso tutta la vita in presenza di una profonda evasione previdenziale. Questa richiesta di lacrime di sangue al popolo italiano non è secondario che questo lo faccia un governo, una classe di governo che è la prima responsabile del degrado di questo paese, che è l'antepice prima della crisi, delle difficoltà, della divisione del paese, che fino a ieri brillava trionfalistici dichiarazioni di soddisfazione per lo stato dell'economia. Che alla Germania stia riuscendo con una pace quell'assalto al potere mondiale che con due guerre mondiali non è riuscita a fare. Agnelle compra un panfilo, può scalarne una parte del costo e nel momento in cui dimostra che gli serve come spesa di rappresentanza per poter rendere meglio le sue macchine. Sembrano delle sciocchezze ma nella realtà, questo per fare vedere che ulteriormente il settore dell'agricoltura e della cooperazione sarà penalizzato, mentre altri settori in quei settori ancora non si mette. Tra Nord e Sud è come se non bastasse la recessione che ci sarà di sicuro con altri licenziamenti nelle fabbriche che chiuderanno perché non si può sopravvivere nessuna industria, nessun artigiano può. I sindaci e gli assessori debbano essere responsabilizzati delle somme che percepiscono. Dopo questa introduzione del compagno Moreno, se qualcuno vuole intervenire, puoi iscriversi a parlare. Diamo intanto la parola al compagno Carmelo Aquilino, segretario provinciale a raggiunto della CGE. La nostra esperienza, il lavoro che facciamo nel settacato insieme a tutti i compagni, rileva un livello di conoscenza in termini di quello che sta avvenendo, di manovra finanziaria, di questi 93 mila miliardi, tutte queste cose che è necessario avviare un grande confronto, una grande chiarezza con tutti i cittadini, con tutti i compagni e con tutti i nostri organizzati. La parola al Salvatore Aquilino. Ma compagni e amici, io desidero esprimere due preoccupazioni. Possibili attentamente l'introduzione di carpenteri e la relazione di Moreno. La condizione di questa Nazione è innanzitutto un punto molto importante, cioè chiarire in termini storici dove eravamo, dove siamo e dove stiamo andati. Io credo che il nostro partito sotto questo aspetto qui deve fare una profonda riflessione, perché il termine storico è molto importante in questo momento. Perché è importante? Perché quello che sta accadendo ci sta portando a rilevare che la nostra nazione non ha avuto una crescita storica. Noi oggi riesce con chiarezza a dare una visione del futuro. E questa è una prospettiva non solo squallida per quella che è la forma più complessa della società, ma credo che sia una prospettiva che tende ancora di più a far chiudere la gente nel suo uscio familiare, che si ha paura di vivere fuori. I compagni di pretesto su quello, invece di condizionare, perché è una ripressione molto importante, ripeto, non per me. Qualificava come offensiva di un governo gestito sì da una presidenza socialista, ma i cui contenuti, e non soltanto per la politica economica, possano essere qualificati come conservatori. Quello che l'appuntamento, come lei ha detto con l'onorevole Parisi Domenica, è principalmente un ulteriore impegno che si rende la Confederazione Nazionale Artigiani per mettere un punto su quello che speriamo con esiti e con impegni da parte dell'onorevole, in maniera precisa, quello che è stato lo zimpello del Ragusano, che è stata la zona artigianale, più volte sollecitata, più volte finanziata e poi non fatta. Sì, siamo a Ragusano, più fiorita l'affermazione, questi scecchi scecchi capiscono. Cioè nel senso che non è stato capace di indidumare le vere sacche dell'evasione, in certe persone accennava il collega Cavallo, per rifugiarsi, proprio per queste le fatti, l'affermazione dell'impotenza da parte di uno Stato, per rifugiarsi anche una volta in quei settori, che ne fatti già di per sé pagano le tasse e le pagano in toldoni, con un carico fiscale abbastanza notevole. Allora, Noi siamo chiamati, abbiamo risposto all'invito, ci ritroviamo in assemblea in questa chiesa. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Prima lettura, dal libro del Siracide, il Signore giudice e non v'è presso di Lui preferenza di persone. Salmo responsoriale, ripetiamo insieme, giunge al tuo volto, Signore, il grido del povero. Seconda lettura, dalla seconda lettura di San Paolo Apostolo a Timoteo, carissimo, il mio sangue sta per essere sparso in Lui bagione ed è giunto il momento di sciogliere la vele. Il Signore sia con tutti voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Te, oh Signore. Dio è Padre di tutti. Gesù appartiene a tutti. E guai a noi se ci impossessiamo di Cristo, ritenendolo solo nostro. In questi giorni viene il grido del Papa. Padre, nel nome di Gesù ti preghiamo, fai risorgere in tutti i cuori la vocazione missionaria. Per tutti coloro che soffrono a causa delle malattie più devastanti ed emarginanti, affinché trovano conforto nella fede e incontrano la nostra fraterna solidarietà, preghiamo. A sforzo, Signore. Padre, nel nome di Gesù ti preghiamo, diffondi l'amore universale, la fratellanza, il reciproco corso spetta tra gli uomini. Grazie a tutti. Tutto Corso, Signore. Grazie a tutti.